Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Abbiamo parlato più e più volte, nell'arco del passato e del tempo, di quali fossero i fucili migliori per iniziare con un determinato tipo di budget, o quali fossero i fucili economici migliori per iniziare, e via discorrendo. Non abbiamo però mai parlato di quali siano i fucili migliori per iniziare ad alto budget, e quali siano appunto i modelli che noi andiamo a consigliare per chi è innamorato di questo sport e ha già deciso che vuole dare il tutto per tutte, quindi vuole partire con una base di fucile molto migliore. Ecco che il buon Red vi viene in soccorso, vi fa vedere quattro modelli di fucili di fascia alta, alcuni addirittura altissima, levissima, purissima, che vi permetteranno ovviamente di avere un guscio esterno con i contro cojones e allo stesso tempo delle prestazioni fuori dalla norma, già out of the box. Quindi prima di farvi vedere questa carrellata di fucili veramente al top, sigla che poi partiamo. Devo sempre dirlo dopo, non prima. Ferma un attimo, scusami, ma sei fuori? Non sai che siamo a Monopoly Software Shop di Reggio Emilia? Luogo all'interno del quale puoi trovare attrezzatura da software incredibile e ci siamo appena rinnovati e soprattutto che tutti questi incredibili fucili molto costosi puoi acquistarli a rate, con tante piccole rateine qui in negozio. Saresti pazzo a non approfittarne e non controllare i link in descrizione per venire a visitare il nostro negozio. Ti aspettiamo. Sempre, sempre meglio. Ah, non vedete l'ora che io vi faccia vedere delle robine interessanti. Ecco perché partiamo subito con il primo fucile di questa quadrilogia. Trident 47 SPR-M. Questa bella bambola è uguale ai modelli Trident che avete visto anche nella mia collezione perché è letteralmente uguale, solo che questo ha il caricatore da AK per ovvi motivi. Sono delle carabine lunghe veramente molto interessanti anche per conformazioni e per certe funzioni in particolare che adesso ovviamente vi andrò a dire. E in generale io le adoro sia per il livello di qualità di polimeri metalli all'esterno della replica sia per gearbox interno e il resto. Molto figo è ovviamente il paramano che è veramente spettacolare ragazzi. Con presente ovviamente i suoi loghi. È uguale a quello dell'arma vera, semplicemente non ha i loghi. Con attacchi QD un pochino ovunque. È ovviamente una bella bestia perché è veramente tanto lungo ma personalmente lo adoro. Mi sono innamorato di questa serie di Kraita che sinceramente sono ancora lì. È uno dei calci questo che io preferisco in assoluto anche per la facilità con cui si può andare ad aprire, mettere le batterie e poi dopo andare a richiudere con tutto il suo aggancio e soprattutto perché non balla. Ti richiudi cazzarola. Eccolo lì. Tutti i loghi, compreso il numero di serie di Krytak, anche dove è stato prodotto il paramano. E personalmente per quello che costa offre veramente tanto e mi piace tantissimo. Krytak per me fa dei fucili molto buoni. Un po' difficile da modificare internamente rispetto ad altri modelli, però allo stesso tempo vi offre degli esterni veramente, veramente ben fatti. Lode altissima al tipo di op-up che è fenomenale. Non è presente il ball catch, questo è l'unico piccola pecca e ovviamente è già presente grilletto elettronico dritto fast trigger. Quindi tanta tanta roba. Sono un po' di quelle cose che gli amanti del genere apprezzano. Figo anche avere un modello che è tipicamente una R15 ma con i caricatori da K. Questo esteticamente ad alcuni fa letteralmente bagnare. Paramano ovviamente tutto in alluminio super trattato con attacchi M-Lock. Ci sono poi gli attacchi QD per attaccare le cinghe ovunque ed è letteralmente uno dei fucili più belli che io abbia mai avuto in mano. Mai quanto però quello che arriva adesso. Ecco che fa la sua entrata l'Avalon VFC URG-1. Sì, URG-1, si dice URG-1, lo so che si dice URG-1. URG-1, 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 URG-1. Fa cagare URG-1, quindi URG-1 mi piace di più. Io dico URG-1. Fatemi una querela qua sotto. VFC quando mi querelerà perché io pronuncio male il nome dei suoi fucili allora smetterò di dirla. Prima non ropetemi le palline. Qui abbiamo un Avalon URG-1 VFC Carabine, ovvero un altro AR-15 Carabine. A sto giro troviamo il paramano Geisel, ovvero questa bellezza di paramano che è identica a quello vero. Ecco perché il fucile costa anche la cifra che ha l'unica differenza e che non ha i loghi originali, ma è un piccolo prezzo da pagare per una qualità che è veramente eccellente. Vi consiglio questo fucile per iniziare per due motivi, anche se pesa 3 kg, 3.100 grammi per essere precisi, essendo bilanciato come un'arma vera è incredibilmente leggero e funziona come tale, sia come impugnatura che come tutto il resto. Anche il calcio fa graga come l'originale, però l'idea è sempre questa, è un fucile che è perfetto, una completa e identica replica rispetto all'originale e personalmente sono innamorato di questo stile. Senza parlare del fatto che ha canna di precisione Maple Leaf già all'interno e vedendo la lunghezza di questa canna fate presto immaginare quanto sia buona e in più anche gommino PAP High Precision della Maple Leaf. Nota positiva su questo fucile è anche che il motore è un high speed, quindi è già predisposto per raffiche veloci. Vi dico che questo fucile è un laser perché tira veramente disgustosamente bene, questo è il modello che io vi consiglio se volete già un fucile estremamente preciso, estremamente ergonomico, realistico eccetera eccetera eccetera, con l'unica cosa da modificare che è la velocità di fuoco. Quindi veramente avete già tutto, compreso anche un motore, l'unica cosa che dovete fare è andare a fare un pochino di modifiche, magari per farlo girare con la 11.1 se volete un fucile a torneo. Per il resto è qui, pronto, bello come un quadro. Più andiamo in alto, più non possono che arrivare fucile di cui sì abbiamo già parlato, ma che comunque vi sorprenderanno. Sto ovviamente parlando in questo caso del Gucci Gun, il fucile più venduto, più famoso di sempre. Ma voglio spiegarvi perché è effettivamente uno dei fucile più venduti e più comprati di sempre, l'MCX, SIG SAUER. Di questo fucile non è che c'è tanto da dire sugli esterni, per quanto sì, calcio PDV in tre posizioni, sì, impugnatura pistola uguale all'originale, tutti i singoli loghi nel posto giusto, fatti da Dio con un'estetica incredibile, paramani in alluminio, ultra ceppola, super alleggerito, M-lock, eccetera eccetera eccetera. Addirittura gli hanno fatto la regolazione del gas che non ci serviva, ma ha anche tanto altro da offrire, non è solo un bel visino. Lo dico perché per esempio una cosa che la gente si dimentica è che questo fucile ha degli interni molto buoni. Vediamo per esempio che nell'impugnatura trovo un motore high torque già di fabbrica, quindi già stock, che ve lo tirano dietro. Il che è ottimo e anche quando andate a modificare il fucile è uno di quegli elementi che non dovete andare a cambiare in post comprarlo, il che è molto positivo per tutta una serie di motivi. Anche la presenza di un MOSFET, perché sì, questo fucile non ha un fast trigger dal punto di vista estetico, ma ha già MOSFET incorporato, il che significa che ovviamente è più veloce, più reattivo quando dobbiamo andare a sparare. Completamente ambidestro in tutte le sue leve, in tutti i suoi perni, i suoi giochini e soprattutto estremamente resistente, sia per il tipo di verniciatura che è stata fatta, sia per tutti i componenti. Ball catch funzionante, ovviamente, con regolazione dell'op-up molto comoda, come detto possiamo andare a chiudere l'otturatore solamente dalla parte sinistra, mentre sgancio caricatore e selettore di fuoco sono ambidestri. Questo fucile personalmente è un consiglio, soprattutto se volete partire veramente col botto, volete far già modificare il fucile e andare a sfruttare completamente tutta la roba che ci hanno sbattuto sopra, e vi volete soprattutto divertire, perché sì, un fucile costoso, ma per buoni motivi. Non è uno di quei fucili in cui dovete smenarci 200-250 euro in più rispetto a quello che sarebbe il suo prezzo, perché hanno deciso così. Al netto del fatto che è Gucci Gun, certo, ma è fatto bene. Ah, siamo arrivati sul podio. Cosa ci potrà mai essere sul podio? Un fucile che costa sicuramente più di tutti gli altri, starete pensando. Oppure un fucile mai visto, qualcosa di incommensurabile, incomprensibile, che vi sbalordirà completamente. Ecco che io vado a distruggere tutte le vostre convinzioni, o forse confermarle per i più attenti di voi, e vi faccio vedere l'Astra 11 in questo caso, però in generale la serie Astra. Quello che ho in mano, che molti di voi conoscono, molti altri non, perché in Italia effettivamente, a parte pochi come noi, non è stato spinto così tanto, è un Astra. Una piattaforma ovviamente AR-15 AEG, prodotta da Secutor, famosa per soprattutto i suoi pompa in Italia, le pistole, questa e quell'altro che si è lanciata e ha fatto questo fucile di fascia alta. Perché ce l'ho qui? Beh, perché semplicemente sono spettacolari, e ce ne siamo resi conto, avendone venduti una modesta e grossa quantità nell'ultimo periodo, e avendo il vostro riscontro, e anche il nostro, e ci siamo convinti che questi siano una delle manne dal cielo più grandi che Secutor abbia buttato sul mercato, e soprattutto una innovazione dal punto di vista estetico, e anche un pochino dal punto di vista interno, del softair, delle AEG da softair standard, perché è sostanzialmente un misto tra un VFC e un fucile del tutto nuovo, nel senso che sì, certe accortezze ci sono, non è realistico al 100%, perché si va a rinventare in vari punti, nell'11 per esempio il calcio è molto particolare, l'impugnatura è molto particolare, i copri, il cassillo sono molto particolari, e ovviamente i loghi, che non si rifanno a nessun tipo di fucile vero, se non quelli di Secutor. Il vantaggio di questa bella bambola, oltre come detto a un'estetica veramente ben fatta e accattivante, è la presenza anche di componenti interni che spaccano ragazzi, perché vi posso assicurare che ci sono delle robe qui sopra, che vi fanno taglio corto. Prima di tutto, canna di precisione da 603, su questo modello è infinita, perché arriva al livello del silenziatore e vi permette una precisione che è disgustosa, disgustosa nel senso che è ingiusta per una canna stock, livello VFC Urguno. Troviamo anche già una sua centralina all'interno, quindi non è possibile andare a montare un'altra centralina, ma è già provvisto sia di grilletto elettronico che di un sistema che va a regolare tutto il ciclo di fuoco. E un'aggiunta che ho personalmente adorato è il fatto che abbiano incluso una vitina, giusto qui sul grilletto, che ci permette di andare a regolare la corsa di esso. Non che sia qualcosa di groundbreaking, però tutti questi componentini messi all'interno mi hanno fatto veramente tanto piacere. È molto preciso, non è privo di difetti, badate bene, ovviamente ci sono delle piccole accortezze che spero che Sector metterà a posto, per quelle vi rimando al video che troverete linkato qui in descrizione, dove parlo e spiego un pochino più approfonditamente questa serie di fucili. Sì, io mi sono sentito di mettere questo perché è esattamente quello che noi consigliamo quando uno deve acquistare un fucile di fascia alta, lo vuole magari anche andare a modificare direttamente e vuole partire col botto. This is the way. Questa è la via, così ho parlato. Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, spero sia stato interessante e che soprattutto lo abbiate trovato piacevole da guardare. Vi ho portato dei modelli, ripeto, di fascia molto alta che sono estremamente convenienti sfruttando il fatto che c'è il pagamento a rate qui in negozio fisico, purtroppo non online ragazzi, continuo a ricordarlo. Perché, come dico sempre, ovviamente essendo il software non pay to win, però un pochino pay to win, partire già con una replica di un determinato tipo conviene. Conviene anche perché poi dopo evitate di farvi una gavetta con repliche che fanno schifo, avete già una buona replica e da lì potete costruire e lavorare sul vostro setup, dedicare il tempo ad un altro e avere già qualcosa che funziona perfettamente e poter concentrarvi su tutto il resto senza dovervi preoccupare che eh, io sono bravo ma la replica non ci arriva, la replica fa schifo, non mi spara, salta i colpi, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente se siete interessati a modificare anche questa replica, come spesso chi prende fucili di fascia alta arriva a fare, trovate anche tutte le nostre modifiche e i tipi di modifiche che applichiamo linkati qui sotto in descrizione. Vi porto direttamente al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, locale dove lavoro e dove stiamo girando i nostri incredibili video e che ci ha fornito tutte queste repliche e che vi ha dato la possibilità di vedere tutte queste bellissime repliche, portate lì, davanti a voi, per la vostra sazietà visiva. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate anche i link dei nostri Instagram, veniteci a seguire perché pubblichiamo tanto contenuto, vi avverto quando tornano quei prodotti che volete in continuazione, da i tattici Reaper a le Beretta a le Glock 17 Gen 5. E non dico nient'altro, venite a seguire su Instagram così lo vedete. Vedete anche i prodotti nuovi che arrivano, quindi se volete essere i primi a mettere le zampe su qualcosa di introvabile e che torna in piccole quantità, fatelo signori, fatelo. E' uscita la Thomas Angri questa. Detto ciò io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo e soleggiato sabato che spero essere stupendo e soleggiato. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Voi a tutti! wsshro? Aiuta! Ciao a tutti! Mireck Santo È inizia scoop? Luca Sosa da Enizia asfora Take ray